La ragazza che conoscerete oggi aveva tutto, molto più di ciò che una persona normale può desiderare, ma in una sola notte, con una singola decisione, è cambiata ogni cosa e per il peggio. Ciao, belli de zio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. Consiglio quindi di mettervi comodi e di non andare su OnlyFans, perché adesso iniziamo ad indagare sul file di oggi. Ma prima ragazzi, comunque io ve l'avevo detto, presto avremo la possibilità di vederci di persona e conoscerci meglio. E quel momento è arrivato. Ma ovviamente non poteva essere una cosa normale, no, dato che siamo tutti persone molto coraggiose e temerarie, ho deciso che ci vedremo durante un'occasione a dir poco speciale. Tenetevi forte, non siete pronti. Scommetto che tutti o quasi tutti noi guardando per la prima volta un film sugli zombie ci siamo chiesti, ma io riuscirei a sopravvivere? Cioè cosa farei per non morire? Ne sarei in grado? E da lì partivano film mentali infiniti. I miei solitamente finivano con la mia morte 0,5 secondi dopo lo scoppio di un apocalisse zombie. Quindi no, da solo non riuscirei a sopravvivere, ma forse con il vostro aiuto potrei riuscirci. Ragazzi, vi invito caldamente ad aiutarmi a non morire subito. Partecipate insieme a me a Zombie Apocalypse. Il 24 giugno 2023 si terrà l'evento che ci farà vivere in un apocalisse zombie. Ragazzi, sono troppo gasato. Prima del calar del sole dovremo cercare il rifugio insieme, raccogliere provviste e prepararci per una notte a dir poco agghiacciante. Una volta calato il buio, centinaia di zombie inizieranno a darci la caccia e dovremo riuscire a nasconderci, difenderci e non farci mordere. Ho sinceramente bisogno del vostro aiuto perché io sarò lì, farò questo evento, ma da solo, come vi dicevo, morirei subito. Sarà una giornata e una nottata surreale e potremo vivere insieme l'esperienza di un apocalisse zombie. Sarà talmente tanto reale che ci farà mettere in dubbio se sia solo un evento o se sia davvero scoppiata l'apocalisse zombie appunto. Ovviamente vi lascio il link con tutte le informazioni qui nella descrizione e nel commento pinnato. Le prevendite per questo evento assurdo apriranno ufficialmente il 24 marzo, ma per voi che verrete con me e faremo un gruppo bellissimo, apriranno prima, il 21 marzo. Dobbiamo fare in fretta perché i primi 250 biglietti saranno scontati e parteciperanno in totale 1000 persone. Noi però possiamo prenotare prima di tutti, quindi se volete venire con me a fare questa esperienza surreale andate nel mio link, date un'occhiata e se decidete di partecipare e aiutarmi a sopravvivere, grazie. Sarà una cosa pazzesca ragazzi, non c'è modo migliore per conoscerci se non durante un'apocalisse zombie. Quindi grazie a voi per l'attenzione e grazie a The Gate che ha organizzato questo evento. E aspetto tutti lì, non vedo l'ora. Fatta questa piccola grande parentesi, cominciamo davvero con le presentazioni per la storia di oggi. Con 2 milioni di follower e circa 3 milioni di dollari guadagnati su OnlyFans, la bellissima Courtney Klenney è stata al centro di una vicenda molto controversa. La giovane vive in una delle città più famose del mondo, nonché una delle città più turistiche al mondo, Miami. Quel posto per lei è perfetto perché vive nel lusso insieme al suo fidanzato che adora. Lui si chiama Christian Obunseli. Ma cerchiamo di capire chi sono questi due e perché ve ne sto parlando. Facciamo un piccolo passo indietro. Courtney nasce il 21 aprile 1996 da sua madre Deborah e suo padre Kim Klenney. Ha una sorella di nome Morgan e all'inizio vivevano tutti nello stato del Texas. Appena più grandicelle, Courtney e Morgan si ritrovano sostanzialmente viziate da loro padre che nel frattempo è entrato nel settore della finanza e ha fatto carriera. Praticamente ha portato a casa una valanga di soldi e giustamente ha reso tutti benestanti. Courtney in particolare sembra essere stata cresciuta con la consapevolezza di poter avere tutto quello che vuole, ma a parte godersi il lusso, come tutti avremmo fatto al posto suo, diciamo che non se ne sta con le mani in mano. Anzi si dà da fare con lo sport, anche perché è influenzata dai suoi che già lo praticavano da tempo. A scuola si allena molto nel calcio, nella ginnastica, fa pallavolo, nuoto e persino equitazione. Comunque Courtney cresce atletica e dal fisico ben definito. Si diletta anche nel settore del teatro e della danza, ma diciamo che lo sport prende un posto di rilievo nella sua vita, ne fa una questione importantissima. Tanto che in età adulta frequenta regolarmente la palestra e diventa persino una personal trainer. Vince diversi premi in competizioni come sollevamento pesi e fitness. Diciamo che il college, l'università, non faceva proprio per lei, ma non perché fosse pigra o ignorante e senza voglia di studiare, ma semplicemente perché ha altre qualità e interessi. E inoltre nel mondo del fitness ha già ottenuto risultati professionali piuttosto importanti, per cui ecco decide di focalizzarsi su quello. La sua vita si basa sul benessere del proprio corpo e del corpo degli altri, e con l'avvento dei social era inevitabile che iniziasse ad usarli per progredire nella sua carriera. Quando si allena, pubblica diverse foto e apre anche un canale YouTube chiamato Courtney Taylor. Alle persone piacciono molto i suoi contenuti, e molto presto diventa parecchio conosciuta su Instagram. Lee dà consigli su come allenarsi e tenersi in forma, e la gente li adora. Da lì comincia ad avere successo, iniziano le collaborazioni con gli sponsor, varie interviste e si trasferisce persino a Los Angeles, insieme ad altri modelli e modelle come lei. Perché sì, presta la sua immagine per varie aziende che, usando la sua influenza e il suo bell'aspetto, la sponsorizzano. Niente di nuovo insomma, ma per Courtney sì, e le piace tantissimo. A questo punto ragazzi arriva una vera e propria esplosione di successo. Ottiene finalmente i frutti e i riconoscimenti di tutto il suo duro lavoro. È stata molto intelligente a mostrare i risultati raggiunti con l'allenamento, e tutto questo le ha davvero cambiato la vita. In aggiunta al successo che ormai le sta piovendo addosso, decide di aprire un profilo su OnlyFans. Su quel sito, come credo sappiate, le persone possono vedere i tuoi contenuti solo se si abbonano e pagano una quota. Al suo interno i creator possono pubblicare qualsiasi tipo di contenuto, anche corsi di cucina per esempio, ma la maggior parte di loro lo utilizzano per pubblicare foto e video hot. Eppure Courtney fa così, ma dato che era già molto conosciuta, fa subito un successo sbalorditivo. Già nel 2020 il suo patrimonio è quasi incalcolabile. Si parla di milioni di dollari guadagnati tra OnlyFans, Instagram, YouTube e altre sponsorizzazioni e interviste. Courtney ha ufficialmente realizzato il suo sogno e quello di molte altre persone. È stata sicuramente fortunata a nascere in un contesto familiare agiato, ma anche lei ha dimostrato di saper usare bene le sue carte. Oggettivamente è diventata una bellissima donna e ha saputo usare il suo corpo per renderlo perfetto, scolpito e in salute. Si è poi messa in mostra e ha dimostrato al mondo intero di essere capace di raggiungere il successo, anche da sola. Una vita perfetta a questo punto, manca solo qualcosa. Sente la mancanza di quella ciliegina sulla torta che sarebbe riuscita a completare la sua vita. Cerca l'amore. Courtney è eterosessuale, per cui cerca un uomo con cui condividere la sua vita e il suo successo. Come era sempre accaduto finora, le basta pensare di volere qualcosa ed ecco che la ottiene. Incontra il suo principe azzurro, un uomo di nome Christian Tobi o Bumseli. Vi ho già accennato prima di lui e adesso è arrivato il momento di parlarne. Christian è nato il 12 aprile 1994. Anche lui è originario del Texas, precisamente di Dallas. Durante gli anni di studi Christian si è appassionato, proprio come Courtney, allo sport. Nello specifico gli piacevano molto il basket e il calcio. Ai tempi del liceo tutti lo ricordano come un ragazzo a modo, gentile e disponibile, oltre che un eccellente giocatore. È il classico ragazzo che ha sempre un sorriso sul volto, è impossibile volergli male, aiuta tutti ed è davvero un pezzo di pane. Crescendo però prende una strada lavorativa molto rischiosa e per alcuni anche controversa. Il giovane inizia infatti a comprare e vendere azioni e criptovalute. Praticamente svolge quel lavoro che molti definiscono come il giocare in borsa, che sembra quasi denigratorio, come se non fosse un vero lavoro ma solo un gioco. Eppure Christian eccelle anche qui. Sa come muoversi in questo campo e ragazzi vi assicuro che non è facile. È un lavoro a tutti gli effetti ovviamente. Pensate che Christian fu sicuramente uno dei primi a investire tutti i suoi risparmi in cripto. E questo, aggiunto al fatto che sapeva su cosa investire, lo portò a guadagnare una quantità spropositata di soldi. Si parla di almeno qualche milione. Quindi come immaginate inizia anche lui a vivere una vita agiata, serena e all'insegna del divertimento. Se notate un po' di somiglianze con Courtney è perché effettivamente ce ne sono, lavori a parte. Entrambi però sono milionari e hanno fatto tutto da soli. La famiglia di Christian era assolutamente normale, nella media per quanto riguarda i soldi. Lui però ha fatto velocemente carriera in un ambito davvero impegnativo ed è arrivato ad avere forse quasi le stesse finanze di Courtney. Nel 2020 lui si innamora di lei al primo sguardo, anche se non sappiamo dove si siano effettivamente conosciuti. Ma vivendo in maniera entrambi molto simile, è probabile che avessero partecipato alla stessa festa o ad un incontro particolare. Fatto sta che non riescono a staccarsi gli occhi di dosso. Parlano, si conoscono e scatta qualcosa. Dopo pochissimo tempo si mettono insieme ufficialmente. Ci sono tante foto che li ritraggono insieme. Sono sorridenti, felici e sembrano perfetti. Sembrano completarsi. Durante i primi mesi della relazione escono spesso e i loro amici li vedono davvero affiatati, romantici e dolcissimi. Tutto davvero perfetto. Ma anche oggi purtroppo è arrivato il triste momento in cui distruggiamo tutte le cose belle di cui vi ho parlato. Dimenticate la bellezza della vita di Courtney e il successo di Christian. Dimenticate la dolcezza del loro rapporto e il carattere di entrambi. Perché a soli pochi mesi dall'inizio della relazione iniziano i problemi. Diventano entrambi due persone completamente diverse. Ricordate che tutti dipingevano Christian come un uomo felice, sorridente ed estroverso. Ecco col passare del tempo i suoi amici notano un triste cambiamento. Un cambiamento che comincia proprio con quella relazione. Christian sta lentamente perdendo l'entusiasmo. È sempre più cupo, sembra triste, quasi stanco della vita. Questo perché Courtney gradualmente prende il sopravvento nella relazione. E anche lei cambia in un modo molto preoccupante. Diventa gelosa, controllante e nervosissima. Litiga proprio per il nulla, urla spesso contro Christian e il più delle volte gli fa anche male. Ci sono anche dei video che mostrano questi atti violenti. Le liti dentro casa purtroppo diventano la quotidianità. La violenza fisica in particolare viene usata sia da Courtney ma anche da Christian per risolvere, tra tante virgolette, i loro problemi. Inutile dire che tutto questo non è per niente sano. Pare, ma sembra essere confermato, che il motivo per cui sono iniziati questi litigi sia il lavoro di lei. Cioè praticamente Christian diventa l'assistente personale di Courtney. La segue ovunque, ma non perché volesse controllarla, semplicemente per motivi di lavoro. E la loro relazione sembra risentirne. E sarebbero proprio questi impegni lavorativi ad aggravare il loro rapporto. Anzi forse sarebbe più corretto dire che Courtney mette a dura prova la loro relazione per gli impegni lavorativi. E questo perché lei pare pretendere troppo dal suo compagno. Ad un certo punto diventa esigente come un generale e ad ogni problema passa alle mani. Ma sembrerebbe esserci anche un motivo per cui lei si comporta così, ovvero l'abuso di alcolici. Pare infatti che Courtney stia frequentando troppi bar e locali, diventando proprio una cliente abituale. Manda giù l'alcol come fosse acqua e questo sembra provocarle momenti di totale amnesia in cui non ricorda nulla. Per esempio è accaduto un episodio assurdo nel 2021. Lei e Christian un giorno hanno avuto una terribile litigata in cui si sono addirittura lanciati oggetti addosso, compresi i bicchieri di vetro. E la cosa fu talmente pesante che vennero coinvolte anche le forze dell'ordine. E Courtney davanti a loro si è dimostrata molto confusa. Cercava ogni tanto di minimizzare e di spiegare agli agenti che era normale, non era niente di preoccupante. Nonostante tutto quella volta venne anche arrestata, ma venne comunque rilasciata dopo sole 12 ore. E Christian non ha mai sporto denuncia, anzi è grazie alle sue insistenze che la polizia ha rilasciato Courtney quel giorno. L'uomo ha raccontato una versione dei fatti molto alleggerita, tutto per proteggerla e per non recarle una caduta d'immagine. Perché era stata Courtney quel giorno a lanciargli oggetti addosso e a fargli anche del male. Ma dopo questo bruttissimo episodio sembrano chiarire e parlano in maniera più pacifica. Effettivamente Courtney era stata molto violenta, perciò capiscono entrambi che la loro relazione è a forte rischio di rottura. Però non vogliono separarsi, non vogliono interrompere tutto così, anche perché sentono ancora di amarsi in qualche modo. Così decidono di trasferirsi a Miami. Si preparano e si riempiono di buoni propositi per questa nuova vita insieme. Sperano che così facendo tutto andrà bene, ma purtroppo è solo un'illusione. Si trasferiscono nel mese di gennaio 2022. I soldi non mancano e Courtney continua a macinare una quantità di denaro che tutti noi possiamo solo sognare. Prendono casa a meno di due chilometri dal centro di Miami. Si tratta di un appartamento extra lusso, con tre camere da letto, tre bagni e una vista mozzafiato. L'affitto di questo appartamento è di 10.000 dollari al mese, ovvero quasi 9.500 euro. Ma questa nuova vita insieme in realtà non cambia molto le cose. Courtney è sempre prepotente con Christian, tanto che si vanta di pagare l'affitto tutta da sola. Gli dice che se solo si fosse comportato male, lei lo avrebbe tranquillamente cacciato di casa. Ovviamente si fa subito riconoscere in città, frequenta vari locali, soprattutto di notte, e si ubriaca come se non ci fosse un domani. Come vedete non è cambiato niente da quando si sono trasferiti. Hanno semplicemente portato i loro problemi da un posto a un altro. In un'intervista addirittura, lei dichiara di essere la dominatrice nella relazione, anche sul lato intimo. La cosa che fa rabbia è che ci gode proprio a far sentire Christian una merda. Lo prende in giro e ci scherza come se fosse una questione di poco conto. Un gioco tra di loro, come fosse una condizione a cui Christian deve sottoporsi senza dire o fare niente. Solo subire le umilazioni, le battute e le minacce fisiche e verbali. Perché non ci dimentichiamo che Courtney è pericolosa anche dal punto di vista fisico, e le cose iniziano a diventare davvero ridicole. La ragazza spesso lo insulta con frasi razziste. Pure se sono ospiti da qualche parte, devasta la camera d'albergo e dà la colpa a lui. Tutte cose così, ragazzi, come se fosse una sorta di gioco per lei. Ovviamente è l'unica a trovarlo divertente. Però attenzione, non crediate che Courtney non si renda conto del male che fa. Spesso lo minimizza o ci scherza su. Ma quando esagera veramente, tipo quella volta che gli ha lanciato i vestiti dal balcone per sfrattarlo, poi si scusa. Si rende conto e lo supplica, poi chiede perdono in maniera quasi esagerata. E dato che come abbiamo visto Christian è fin troppo buono e generoso con lei, finisce col perdonarla sempre. Questo è un chiaro esempio di relazione tossica. Sarebbe facile dire, ah ma io con una tipe del genere non ci starei mai, oppure io me ne sarei già andato. Ma dovete sapere che la vittima di una relazione tossica vive come in un limbo. In una realtà dove, a seconda del caso, potrebbe finire per accettare le brutalità che sta subendo. È una vera e propria manipolazione psicologica, ed è assurdo quanto possa far male ad una persona. Vi prego di non giudicare, ma di cercare di comprendere che queste siano situazioni estremamente delicate, e vi auguro davvero di non finirci mai. Finché non lo si vive, non si può comprendere appieno cosa passa alla persona abusata. È importante ricordarlo. Ma comunque Christian, ovviamente in quel periodo, si sente affranto. Sta molto male per il modo in cui la sua amata Courtney si sta comportando con lui. Non è così tanto manipolato da non capire il dramma che sta vivendo, ma crede ancora di amarla. E non può farci niente. Pensate che online viene diffuso un video in cui i due sono in ascensore, e si può vedere che lei lo picchia in maniera veramente aggressiva. Ma nonostante queste orribili situazioni, rimane innamorato di lei. Le scrive persino una lettera carica d'amore dove fa intendere di amarla alla follia, a prescindere da tutto. Ma lei, quasi contraria a tutte queste attenzioni, sempre nel 2021 a seguito dell'ennesimo litigio, arriva a pugnalarlo alle gambe. Anche questa volta lui non la denuncia, ma inizia a ripudiarla e odiarla per tutto quello che era successo tra loro. Da questo momento inizia un tira e molla sempre più violento, che sfocerà nella follia più assoluta. Christian è sconvolto e molto arrabbiato. Soltanto adesso, dopo l'episodio del coltello nella gamba, le rinfaccia di averla sempre sostenuta, di essere sempre stata al suo fianco e di non averle mai fatto del male. Le ricorda che il giorno successivo a quella ferita alla gamba, lui le ha dato il buongiorno. L'ha accompagnata dove doveva accompagnarla, ha fatto l'amore con lei e non si è lamentato neanche una volta per il dolore alla ferita. Courtney, come ho detto prima, quando esagera cerca di chiedere scusa, gli fa regali costosi e sembra essere gentile. È chiaramente una tecnica di manipolazione, perché tenta di comprarsi la sua fiducia, e il più delle volte purtroppo ci riesce. Ma da quell'episodio del coltello, le cose tra di loro cambiano leggermente. Diventa un rapporto molto altallenante, si vedono, non si vedono, si amano, non si amano, litigano e non litigano. Ma malgrado tutto, vivono ancora insieme. La polizia in quel periodo, pensate, ha ricevuto ben 12 chiamate d'emergenza per i loro litigi. Cioè, sembra comunque andare sempre peggio. Courtney manifesta sempre più un comportamento minaccioso, nel senso che minaccia più volte la vita di Christian. Negli ultimi tempi lui dorme praticamente in un divano nell'atrio del loro appartamento. Non ci pensa nemmeno a stare nel letto con lei, ma ancora non se ne va da quella casa. Nell'aprile 2022, la polizia viene contattata ancora una volta per altri litigi. Courtney mette in piedi delle scene che a posteriori possiamo definire patetiche, ma allo stesso tempo inquietanti, perché mostrano una sorta di bipolarismo di questa ragazza. Da una parte lo ama, dall'altra lo vuole far fuori quando si arrabbia. In tutto questo, lei comunque ha, anzi deve, avere sempre il controllo della situazione. È sempre in prima linea ed è sempre la protagonista di queste vicende, sia che fosse vittima o carnefice. Ma ecco che il 3 aprile 2022 scatta qualcosa. L'evento da cui non si può più tornare indietro. I servizi di emergenza quel giorno ricevono una chiamata straziante. Nella telefonata si sente un uomo che lamenta di non sentire più le braccia e che dice che sta per morire. Mentre una donna in sottofondo è in preda al panico e frafuglia parole sconnesse. Non posso inserire la telefonata nel video, ma lascio il link nella descrizione così se qualcuno volesse sentirla è libero di farlo. Alla fine, in qualche modo, riescono a scoprire da dove proviene la chiamata. E proviene proprio dall'appartamento di Courtney e Christian. Gli agenti arrivano subito e trovano Christian ferito al petto e sanguinante. La casa è un disastro e tutta in disordine. Ci sono addirittura dei punti in cui il sangue è coagulato. Ciò significa che Christian era stato ferito da almeno mezz'ora o un'ora. Stava soffrendo già da molto prima della chiamata. È stato trovato del sangue nella cucina, nel soggiorno, nella camera da letto principale, nel bagno e nel retro del soggiorno. Conoscendo già il passato della coppia è facile ipotizzare che quello non fosse altro che il frutto dell'ennesimo litigio, il peggiore. Courtney in tutto ciò è ricoperta di sangue, riversa a terra appena fuori dall'appartamento. Bacia e coccola i suoi cani ed è, non lo so, sembra strana agli occhi degli agenti. Essendo già intervenuti lì e conoscendo il suo carattere, temono il peggio. Intanto Christian viene portato d'urgenza all'ospedale nel tentativo di salvarlo, mentre Courtney viene scortata dalla polizia mentre è ancora in vestaglia. La portano dritta nella sala dell'interrogatorio. Bisogna capire cos'è successo. Lei a quel punto già aveva detto che la coltellata era stata accidentale, ma la quantità di sangue che aveva perso Christian era a dir poco allarmante. Infatti dopo aver provato in tutti i modi a salvarlo, muore in ospedale. Intanto Courtney racconta alla polizia quello che è successo. Courtney quel giorno era arrabbiata con Christian perché lui aveva tolto la geolocalizzazione da un'app che usavano tutti e due. L'app in questione si chiama find my friends o trova amici qui in Italia. E devo dirvi onestamente che la trovo abbastanza inquietante. Cioè può essere molto utile per esempio ai genitori che vogliono sapere dove sono i figli, ma in questo caso non ha fatto altro che alimentare gelosia e odio. Per tutto il giorno in realtà non avevano avuto problemi. Lei aveva fatto le sue cose, era andata a mangiare fuori, aveva anche fatto una diretta su Instagram, poi aveva parlato con sua madre e così via. È alla sera che tutto è peggiorato. Courtney non si fidava di lui, voleva che Christian tenesse la localizzazione accesa per monitorare ogni suo movimento. Ma lei invece non voleva attivare la sua, cioè non voleva condividere con lui la sua posizione. A Christian però non piaceva questa cosa perché giustamente si sentiva spiato. Courtney allora racconta che quella sera lui aveva disattivato la posizione e questo la fece andare su tutte le furie. Una volta tornato a casa chiaramente iniziarono a litigare. Durante questa lite lui l'avrebbe afferrata e spinta a terra. Lei avrebbe quindi chiamato sua madre, ma Christian avrebbe continuato di inveire contro di lei, fino a quando non si sentì costretta, per difesa, ad usare un coltello e piantarglielo dritto al petto. Sembra però minimizzare la cosa, non capisce perché ha agito così. Dice che è come se avesse avuto la vista annebbiata, un po' come quei vuoti di memoria che aveva negli ultimi anni a causa della sua dipendenza dall'alcol. Dal tono però sembra molto dispiaciuta per quello che è successo. Sa che ha fatto qualcosa di sbagliato, ma non riesce a spiegarselo né a spiegarlo bene agli agenti che sono lì con lei in quella stanza. In quel momento non sa ancora che Christian è morto, ma ecco che dopo circa due ore di interrogatorio, arriva la triste notizia. Christian obumseli. Purtroppo non ce l'ha fatta. Lei viene subito informata ed ecco come reagisce. Christian è morto. Oh my God. This is not real right. Okay. Christian died. La famiglia di Christian è letteralmente distrutta. Era un ragazzo così buono, educato e gentile. Non ci possono credere. Anche Courtney sembra distrutta dalla vicenda. C'è però un comportamento molto particolare da parte sua. Chiede subito un abbraccio. E questo fa spostare ancora una volta l'attenzione da Christian a lei. Non posso mostrarvi l'intero interrogatorio e l'analisi del suo comportamento perché dura quattro ore. È di sicuro un comportamento molto interessante, diciamo così. Comunque in ogni caso la ragazza decide di farsi ricoverare volontariamente in un reparto psichiatrico. Questo in attesa di capire come muoversi per vie legali. Ed è un gesto che denota tanta consapevolezza. Fa sembrare che le dispiaccia davvero, che si renda conto del male che ha fatto e che voglia rimediare in qualche modo. Dopo neanche due giorni Courtney viene rilasciata dall'istituto. Gli investigatori credono alla sua versione, cioè che si è trattato di una lite violenta in cui lei ha agito per difesa. Ovviamente però la famiglia della vittima non crede neanche per scherzo a questa sua versione. La ritiene falsa. Pensa che sia l'esatto contrario, ovvero che è stata Courtney ad attaccare Christian e che lui ha agito per difesa, finendo però col ferirsi a morte per colpa di Courtney. Pensano anche che il suo rilascio sia dovuto al fatto che fosse una bella ragazza, bionda e bianca, alludendo così ad una componente razzista. La cosa ancora più assurda però è che Courtney, poco dopo tutto questo, è tornata alla vita di prima. Ha ripreso ad uscire e bere nei locali, come se nulla fosse. A fare foto, video, anche per OnlyFans, che vabbè era il suo lavoro, però sembrava che tutta la vicenda le fosse scivolata addosso. E come può scivolarti addosso un omicidio per legittima difesa? Ma tranquilli, questa parentesi dura poco, perché l'avvocato della famiglia di Christian riesce a convincere la polizia che Courtney ha raccontato un sacco di bugie e la si spinge in aula per farla confessare e possibilmente condannare. Tutta la famiglia della vittima cerca di fare giustizia e mostrare al mondo intero cosa si cela dietro la vita perfetta di Courtney, la bellissima modella di OnlyFans. Non è una battaglia facile, perché lo stereotipo che vede la donna vittima dell'uomo autoritario piace di più, piace a tutti. Nel senso, non è che piace, è che ci siamo abituati. È quasi una cosa scontata, della serie figurati se una donna così si mette a picchiare un uomo. E che schifezza, c'è ancora gente che pensa che un uomo non possa essere vittima di una donna. È assurdo. Anche perché, come avete visto in questo caso, ma anche in tanti altri, è stato proprio così. Poco per volta, passo dopo passo, vengono a galla tutte le informazioni di cui vi ho parlato. A questo punto il mondo sa cosa si nasconde dietro quel sorriso e dietro quel corpo perfetto. Una ragazza ossessionata dal controllo e fin troppo libera di fare quello che vuole, a discapito del prossimo. Infatti, sempre nel periodo post delitto, Kourtney ha acquistato una casa in Texas dal valore di 1,4 milioni di dollari. Ovviamente anche questa è una casa di lusso, quindi in quel periodo la ragazza si gode ancora di più la bella vita, se ne va un po' dove vuole e giorno dopo giorno peggiora sempre di più il suo problema con l'alcol. Sempre nel 2022 viene ricoverata alle Hawaii per abuso di sostanze e le viene diagnosticato un disturbo da stress posto traumatico. Quindi in effetti stava davvero soffrendo, aveva davvero subito un trauma e ne stava pagando le conseguenze. Anche se da fuori sembrava vivere la sua vita normalmente, nel lusso, nel divertimento. Fatto sta che nonostante questo, mentre è ricoverata, viene ufficialmente arrestata il 10 agosto. Viene accusata dell'omicidio di Cristiano Bunseli. Ci hanno messo un bel po' ad arrestarla e il motivo è che come sapete la burocrazia non è mai velocissima, ma ci è voluto del tempo anche perché hanno voluto raccogliere e catalogare per bene tutte le prove, al fine di accusarla di omicidio volontario e non di difesa personale, come aveva fatto intendere. Sotto certi aspetti possiamo dire che è stato utile aspettare così tanto per arrestarla, perché così hanno tutti potuto vedere come si è comportata dopo. Il suo comportamento sembra ora menefreghista, come se non le importasse nulla della tragedia che lei stessa aveva causato. Cioè io davvero non riesco a capire in che posizione sia Courtney. Per alcune cose sembra dispiaciutissima, ma per altre sembra una killer a sangue freddo. È davvero strano. Comunque vengono fuori anche altre prove che dimostrerebbero la sua colpevolezza o perlomeno il suo atteggiamento decisamente violento. Per esempio emerge un episodio in cui la ragazza ha rotto la mascella ad un bodybuilder nel febbraio del 2017. Questo per farvi capire quanto è forte. Se poteva fare una cosa del genere poteva anche fare molto male a Christian. Con tutte le testimonianze e le prove viene fuori un evidente problema nella gestione della rabbia e dello stress. Si tratta di una persona pericolosa per la società e per se stessa. In aula inoltre viene fatto notare un dettaglio davvero non da poco. Aveva conficcato il coltello da cucina nel corpo di Christian in una zona molto specifica, ovvero nella parte in basso a sinistra del petto, poco sotto il capezzolo sinistro. Lì Christian aveva un tatuaggio. Un tatuaggio con scritto il nome di Courtney e lei lo ha colpito fatalmente proprio in quel punto. Al processo vengono anche mostrati dei video in cui si può vedere lei che cerca di manipolare la vittima o che minimizza il fatto di averlo picchiato o che addirittura gli mette le mani addosso più e più volte con una cattiveria assurda ragazzi. Insomma ci sono davvero tantissimi elementi che proverebbero la sua colpevolezza. Ma Courtney Clenny che ha ora 26 anni è ancora sotto processo e proprio quest'anno nel 2023 si dovrebbe concludere il tutto. La difesa della donna vacilla perché sembra proprio che tutti siano contro di lei con prove alla mano e testimonianze verosimili. Praticamente è tutto ancora in corso e staremo a vedere cosa succederà. Ovviamente io vi aggiornerò o qua nei commenti o comunque farò un post nella community o su Instagram per cui vi farò sapere come si conclude la situazione. Ma ora voglio sapere cosa ne pensate. È stata legittima difesa o un delitto volontario? Credo che ormai la verità la sappia solo lei. Nonostante tutto potrebbe anche essere stata legittima difesa ma bisognerebbe provarlo e la ormai ex modella è molto lontana dal farlo. Intanto per i pochissimi fedeli che rimangono fino alla fine anticipo che... boh vi amo. Non ho niente da anticipare perché ho già anticipato tutto negli scorsi video. Spero comunque che rimarrete nei paraggi per cui se vi ho fatto compagnia ricordate di massacrare il pulsante iscriviti. E adesso parlo con te. Sì proprio con te. Se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare ti consiglio questa storia da brividi oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo. Se invece siete ancora qui io come al solito spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo di seguirmi anche su Instagram se volete farvi i cazzi miei. E niente vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file. Ciao!